Sicuramente torniamo a casa con un grande bagaglio culturale, lo consigliamo perché ci ha dato tantissime idee e ispirazione, quindi brave voi e vi ringraziamo. Sicuramente lunedì arriveremo dalle nostre colleghe, gli stravolgeremo la vita con 30.000 idee che ci sono venute in mente, anche solamente i primi 5 minuti del corso già avevamo 40.000 idee da proporre. Un'altra cosa da aggiungere, sicuramente dopo il terzo squillo risponderemo e via di protocolli! Grazie a tutti!